Realizzare gli obiettivi e mancanza di adattabilità. Oggi continuiamo ad affrontare questo tema parlando di mancanza di adattabilità. Un tema importante che tocca purtroppo molti imprenditori che rimangono ancorati alle loro vecchie idee e non riescono ad adattarsi al cambiamento continuo che la società di oggi ci obbliga ad avere. Per fare un esempio che secondo me calza bene possiamo immaginare questo. Un fiume, il nostro obiettivo è dall'altra parte e non esiste un ponte. Quello che dobbiamo fare quindi è semplicemente costruirlo. Però noi sappiamo che il fiume non è mai fermo. A volte il livello dell'acqua si alza, a volte la corrente si alza e possono arrivare delle onde che rischiano di distruggerlo. Allo stesso tempo durante la costruzione potrebbero arrivare degli imprevisti. Manca legno, manca qualcosa. Succedono cose inaspettate via dicendo esattamente quello che succede quando ci mettiamo al lavoro, all'opera per ottenere nuovi risultati. Quindi per realizzare nuovi obiettivi. Quello che possiamo fare è innanzitutto mantenere una mente aperta e flessibile. Questo è fondamentale perché questo ponte che noi stiamo costruendo potrebbe avere bisogno di essere modificato in continuazione ed essere adattato alle condizioni del fiume. Quindi non dobbiamo avere paura di cambiare strategia quando è necessario. E se pensi agli obiettivi che hai ottenuto in passato ti è probabilmente successo la stessa cosa. Volivi qualcosa, ti sei fatto un'idea di quella che doveva essere la strada, il cammino e poi una volta iniziato ti sei reso conto che hai dovuto deviare da quella che era la tua idea iniziale di percorso perché ti sei dovuto adattare alle situazioni. Questo è fondamentale. Punto numero due, dobbiamo assolutamente imparare dai nostri errori. Quindi nel momento che facciamo qualcosa di nuovo sbaglieremo, è assolutamente inevitabile. Dobbiamo imparare da questi errori, capire che stiamo sbagliando e correre immediatamente ai ripari. Per cui se mettiamo un asse nel nostro ponte, arrivo un'onda, la porta via, lo rifacciamo due volte, tre volte, quattro volte, diciamo che dovremo capire che probabilmente l'azione che stiamo facendo non è corretta e dobbiamo cambiare azione. Purtroppo, nella maggior parte dei casi non è così, le persone continuano a inchiodare questa tavola che viene portata via dal fiume. Ecco, rallentiamo e riflettiamo se l'azione che stiamo facendo è corretta e cerchiamo di capire come migliorare questa singola azione. Tre, dobbiamo monitorare costantemente l'ambiente intorno a noi. Se abbiamo la possibilità di conoscere in anticipo o comunque di anticipare i cambiamenti che stanno arrivando, questo ci aiuterà tantissimo perché stai costruendo il tuo ponte, vedi in lontananza un'onda o comunque ti rende conto che nei prossimi giorni arriverà una pioggia intensa e quindi il livello dell'acqua si alzerà, bene, devi correre immediatamente ai ripari e prepararti. E questo vale per qualunque tipo di obiettivo vogliamo realizzare nella vita. Se siamo in grado di capire i cambiamenti del mercato, i cambiamenti della società, ovviamente in base all'obiettivo che vogliamo realizzare, perfetto, riuscire a anticipare questi cambiamenti ci aiuterà veramente tanto e soprattutto non ci farà trovare impreparati, che è la cosa fondamentale. Infine, l'ultimo consiglio che mi sento di dare è quello di rimanere concentrati sul nostro obiettivo. Una cosa molto semplice che possiamo tenere a mente è questa. Ogni giorno dobbiamo avvicinarci, anche se poco, al nostro obiettivo. Non importa di quanto, ma non dobbiamo perdere lo slancio. Quindi cerca di darti questo compito, di avvicinarti ogni singolo giorno di un poco. Non importa quanto. Volevi fare 100, riesci a fare 1, va bene. Però non fare 0. Fai sempre almeno 1. Questa capacità di andare avanti sempre in maniera inesorabile è una delle chiavi che vi porterà a realizzare qualunque cosa. Con questo è tutto. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, possiamo vedere la mancanza di adattabilità come un ponte super rigido che si spezza alla prima onda. E invece vedere chi è molto flessibile, che ha una capacità veramente di adattamento importante, come uno di quei punti mobili che si adattano a livello dell'acqua. Ci rendiamo conto di come effettivamente affronteranno la situazione in maniera diversa. E noi dobbiamo essere esattamente come il ponte flessibile. Dobbiamo essere in grado di adattarci al cambiamento, resistere adesso, se ne abbiamo la possibilità addirittura cavalcarlo, ma nel momento che restiamo troppo rigidi ed ancorati alle vecchie idee, allora sarà veramente difficile prosperare. Per concludere, ricordiamoci che l'adattabilità è la chiave per trasformare gli ostacoli in opportunità e i cambiamenti sono letteralmente dei trampolini di lancio verso il successo. Quindi continuate a costruire il vostro ponte, adattatevi al fiume e giorno dopo giorno, tassello dopo tassello, riuscirete finalmente ad arrivare dall'altra parte verso il vostro obiettivo. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!